Gatti e cani sono gli animali da compagnia più amati in tutto il mondo. Ma cosa li rende così speciali? Sarà perché sono indipendenti ma affettuosi allo stesso tempo? Per il loro soffice manto? Ci sono molte ragioni, ma oggi parleremo di alcuni benefici di vivere con uno di loro. Sicuramente non li conosci tutti. A non perdere! Riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Uno studio indica che avere un gatto riduce significativamente lo stress e l'ansia nei loro esseri umani. Ciò si traduce in una predisposizione inferiore a soffrire di malattie cardiache. In effetti riduce il rischio di problemi cardiovascolari. I bambini che crescono con i gatti si ammalano di meno. È proprio vero! Uno studio pubblicato dalla rivista scientifica Pediatrics indica che i bambini che vivono con i gatti hanno una predisposizione inferiore ad ammalarsi. Inoltre, chi finisce per ammalarsi ha bisogno di meno farmaci. Ma ciò come avviene? Uno dei medici che ha partecipato allo studio suggerisce che i gatti stimolano il sistema immunitario, favoriscono la risposta immunitaria del corpo di bambini contro lo sviluppo di virus e batteri. I gatti aiutano a dormire di più e meglio. Dormire con i gatti non solo rafforza il regame tra i felini umani, ma porta anche vari benefici. Ad esempio, favoriscono il relax, ci riscaldano in inverno e danno sicurezza emotiva ai più piccoli. Ad esempio, favoriscono il relax, ci riscaldano in inverno e danno sicurezza emotiva ai più piccoli. Ciò si traduce in un sogno piacevole, profondo e di qualità. Di recente abbiamo pubblicato un video che parla dei pro e dei contro del dormire con un gatto, non chiede alcuni falsi miti. Troverai il link in bio. Da non perdere! Le fusa hanno effetti terapeutici. Ti abbiamo già detto che fare le fusa rilassa e aiuta a dormire. Lo sai che le fusa dei gatti hanno un effetto positivo sul nostro corpo? Esatto! Uno studio ha confrontato le fusa con un tipo di terapia sportiva che utilizza vibrazioni meccaniche a frequenza naturale. Ma cosa serve esattamente? È un tipo di fisioterapia che migliora il rilassamento dei muscoli contratti, aumenta la capacità di allungamento dei tendini e aiuta anche i pazienti che soffrono di insufficienza venosa cronica. I gatti accompagnano le persone più intelligenti e attraenti. Non ci crederai, ma un sondaggio ha rivelato che l'82% delle donne trova gli uomini che hanno animali domestici più attraenti, ma inoltre il 90% concorda sul fatto che quelli che hanno gatti si sono rivelati più amichevoli, più affettuosi e pazienti degli altri uomini. Un altro sondaggio, condotto nel Regno Unito, indica che le persone con gatti hanno maggiori probabilità di avere un diploma universitario. Tuttavia, non è chiaro se le persone intelligenti preferiscano la compagnia dei felini o se al contrario il possesso di un gatto favorisca lo sviluppo intellettuale. Tu cosa credi? Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi. Se ti è piaciuto e vuoi saperne di più, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al nostro canale. Alla prossima!